Ciao a tutti ragazzi Oggi siamo sul mio nuovo computer Potentissimo No scherzo non potentissimo Potente e sul mio nuovo computer Quindi ci saranno video senza lag Ragazzi in HD Vabbè comunque oggi faremo una bella costume pack E in tradizione ci sono anche io Rector C'è Rector quindi Il capitano boss Ciao boss Ti diamo le nostre mani Comunque vi racconto cosa dovremmo fare Cosa vogliamo fare oggi Ovviamente oggi faremo Non io Dynamic farà per la prima volta un server di minecraft Quindi ci saranno Questo video è tutto improvvisato Quindi non aspettavi cosa Aspettatevi tante risate E tante cavolate Da Dynamic Che ne so magari è diventato più bravo di prima Vabbè iniziamo con questo video Iniziamo con questo video Tanto insomma mi domandami Fai il screen share Così guardo anche io Screen share Screen share Screenshare Screenshare Share screen Oh qualcuno ci india Scusate ragazzi che noi usiamo questi termini in inglese Perché ci piacciono e basta No non è che ci piacciono Siccome io vivo in inglese Per il buon dito Oh Ok comunque Ecco Prima abbiamo preso la magi Quindi Lei aveva la magi Ah la avevo la magi Sotto Sotto Via Via Ok Ok Prendi il pacchetto di minecraft Quale Questo Il server o Questo qui Dove ho messo minecraft Eh il server Ah il server Ok Ah lo apro Cioè cosa fai Cioè Cioè scusa Lo apro Si o no Ma lo apri o no Ma che cazzo le domande sono Certo che lo apri Che lo guardi così Amore Ti sei Amore Guarda quanti fa Mi sono venuti Ma sei scemo Pensavo che avessi messo in una cartella Chiudi Chiudi Subito Chiudi subito Io te l'ho detto Se lo devo aprire o no Mamma mia Mamma mia Non mi si apre nemmeno Aspetta Aspetta Elimini Elimina tutte le cazzate che ho fatto Ok Eliminiamo i file Ma prima di tutto Il tuo pc è una merda Cioè per dire Guarda quante cose c'hai davanti Un po' di cartelle No Cioè scusa eh Cioè per dire C'è una istruzione In 1080 Perché dovrei mettere così Sei in 1080 Guarda che Una cosa Per farvi sapere Vabbè Se mettete Facciamo la cartella Facciamo la cartella Se fate come Dynamica Lasciate tutte queste cartelle Il computer Vi rimetra un po' lento All'accensione Ve lo dico così Basta Io so questo E infatti io tengo Due file di cartelle E basta Non come 50 file di cartelle Ok Dopo li sistemo Ok felice Mamma mia Ok comunque Apri server di minecraft Questa volta Non Cazzate Lo avrò in una cartella Che si chiama Dynamic server Guarda Siamo a 48% 58 69 78 86 94 Abbiamo finito Ora cosa devo fare Ora chiudi Chiudi server Chiuso 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 Aspetta Guarda che basta Priciare una volta Ci vuole un po' Spondi Va bene Ok Apri le server properties Quale? Ecco Server list Properties Ah giusto Scusami Mi dispiace Oh mio dio Che succede? Aprilo con Not Coso Not bad Non me lo potevi dire prima Non me lo potevi dire Non share Apri Open Open More applications Not bad Vabbè In italiano sarà Blocco note Ok No Qui dovresti Nascondere l'IP Per forza Se no Entrano Banner C'è L'IP L'IP Dov'è? L'IP Ok Prima di tutto Mettiamo Force Force Mode False Server IP Metti Posso modo Dov'è? Innanzitutto Iniziamo dal primo Generator settings Settings Lascia com'è Ok Allo Hunter Si lascia com'è Su Level name Lascia com'è Ok Enable query Lascia com'è Allo Fight Dormi com'è Che cazzo? Dormi com'è Cosa? Nel senso Lascia com'è Allo Che cavolo Dici? Mamma mia Ragazzi Server port Porta come lo è Questi ragazzi Scusate Nel senso Porta come lo è Nel senso Porta lo lasci Come una port Mamma mia Level type Level type Metti più facile Che possibile Perché ti fai schifo No Mai Metti Difficult Default Default Va bene Default Enable Rikon Rikon Si il rikone Che mi spara dal culo Ok va bene Falso? Comunque Lascia lo falso Ok Level seed Metti clan RGR Clan RGR Poi O RGR Vabbè Comunque Basta così Force game mod Vabbè Quello Cosa Cosa Quello lasci com'è Ok Server IP Server IP Lo lasciamo per ora Perché non vorremmo far vedere Altri nostri IP Quindi Io lo vorrei far vedere Così almeno entrano Gli spawner Vabbè Basta che mettiamo La white list Fine Cioè White Vabbè Vabbè Max Build Hate Lasciamo come Dato che c'è il computer Dopo te andava benissimo Spawn NPCS Sì 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 White list Sì Sì Falso? Sì Cosa falso? White list Falso? Sì Lascialo falso Spawn animals True Sì Lasciate tutto lo uguale Tranne online mode False Dov'è light mode? Ah Online mode È True False Online mode Met falso? Sì Certo Non abbiamo minecraft originale Perché siamo poveri Ah Semplicemente Pwp Eh pwp Dovrai metterlo Perché così ti ammazzo Cento volte Sì Vabbè Difficulto Va bene God mode Zero Va bene Max player Max player Metti Metto dieci Ma che dieci Metti cinque Ma cinque Si cinque Ma se poi C'è qualche Invitato speciale Magari Facciamo una bella Festicciola Metti sei Sì Un dieci No C'è C'è Spawn Monster Va bene Sì Va bene Generate Structure Sì Va bene Vio Diva Dista Vio Distance Distanza Mettiamo 8 8 Anche se è potente È meglio mettere un po' Basso Vabbè A minecraft server Metti Clan RGR server RGR server È più bello Si vabbè Metti No aspetta Server RGR È più bello Server RGR Il server dei rincogli uniti RGR è molto più bello Questo va bene Ora salviamo No aspetta Chiudi il video Un attimo Mettiamo il P Stoppa il video Ok stoppa il video Ciao a tutti ragazzi Ci vedremo Tra pochi secondi Ma comunque Da quel che ho visto Da tanti video L'importante è che Dopo aver messo l'IP Che lo potrete prendere Da Amaci Basterà che voi fate Salva Salva E vi salva Ok Bene Quindi noi stoppiamo il video Ora Cioè Ora stoppiamo il video Tra pochi secondi Ma scusa Ma se l'hai detto già Ragazzi ci vediamo Tra un po' Perché stai dicendo Queste cattature Scusate Non so Chiudi il video E basta Stoppa Sai che c'è un'opzione Su Camstasia Il due barrette Che vuol dire Pausa Potresti anche fare quello Non funziona Ok dopo pochi secondi Siamo riusciti A raggiungere Questo file E ora Rekt Ci vediamo A mettere tutte le cose A posto Ok ora Apri il server Quale server? Ah giusto Questo server Quale server? Scusate Mamma mia No scommetti Che dopo il video Viene male E viene tutto Cioè Scommetti che non si sente La mia voce O la tua No 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 Accidente Ho per sbaglio Acceso il coso del server Madonna Mi ha riempito Tutta la pagina Bravo E mi porti sfiga Ecco il genio Ecco il genio Mi porti sfiga Poi dici a me Poi dici a me Te lo dico sì Perché te mi porti Ehi torna lì Torna lì Dopo vieni Dopo vieni Vai vai Ok accendiamo minecraft Questo processo Ok diciamo E questo sarà un video Per farvi Incazzare Fine Oh eh Sta arrivando Fardello Sciugo Che lo aggiungiamo Sì sì Ok aggiungiamolo Però chiudi il video Perché Ecco ragazzi C'è il nostro Amico Che si chiama Fardello Sciugo L'abbiamo aggiunto La chiamata Oh ci sentite Oh Oh ciao Sciugo Stiamo facendo un bel video Eee Che cazzo Ok veramente Sì sicuramente Oh oh eh Rector ci sei Certo che ci sono Ok Ecco ragazzi Eh si è giunta La chiamata Sciugo E questo sarà L'ospite speciale Del nostro server Spero Vero Sì Vabbè sì Sì ok Mi stanno bucando così A cazzo Eh vi dico già Che lo Lo spezzeremo In due Lo budelleremo Lo ammazzeremo Eccetera eccetera Perché poi Poi lo ammazzeremo Poi lo ammazzeremo Dice Povero figlio L'hai ammazzata E hai detto Sì E via la fine Ok So cosa ho detto Io sto capendo cosa devo fare Guarda qua c'è scritto Info Dan Rodri Eh coso Dynamics Sai che ti potrei dare un coso Semplicissimo Senza fare queste cazzate Vabbè ormai Vabbè ormai la video L'abbiamo startata Non è che ora Possiamo fermare Vabbè Cazzo Eh Rector Eh Rector C'è scritto Dan Che devo fare io Vabbè A nostro No non iscrivete Non iscrivetevi al canale suo Perché lui fa solo pubblicità Ogni volta che Ecco perché è entrato nella serie Solo per fare pubblicità E non iscrivete ovviamente Non iscrivete ovviamente Pubblicità Aspettate che vada a cercare su Google Non scherzo Iscrivetevi anche sul canale Perché è un ragazzo bravo Anche se non ho mai visto un suo video Aspettate che vada a trovare una bella pubblicità Ah fanculo Hai fatto un server di merda Non posso nemmeno entrare Come un cazzo si fa il giugno Aspetta Oh no ma Certo che sono un coglione Ho preso il mio IP Che il tuo IP Ok dammi il tuo IP Poi dici a me Poi dici a me Che io sono Dammi il tuo IP Ah Basta che lo incolli Allora ragazzi Il video lo fermiamo Siamo qua perché Siccome non potete vedere il mio IP E ci vedremo tra Due secondi Ok ragazzi siamo tornati Dopo due secondi Come vi ho promesso Io mantengo le promesse E basta Che promesse Con queste promesse basta Ecco l'ho detto Comunque stiamo cercando su YouTube Una bella pubblicità 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 Ah ma che video sarebbe in pratica Che video sarebbe Non lo so Una costume pack No ma voi adesso Che video state facendo Il video Ma che cazzeggio Ma che cazzeggio No non ci riesco Che hai chiuso il server No io il server ce l'ho aperto Allora aspetta Aspetta un attimo Che fermo il video Fermo il video Per il mio video Un'altra volta E poi vediamo Se ci è successo Bastardo Mio fratello mi mette Non mi piace Dal mio stesso canale Ma che bastardo Ehm Sto passimo E sto passimo Ciao a tutti ragazzi Abbiamo scoperto Che funziona tutto Era solo che Rekt era un po' stupido Era un po' stupido No la dynamic era stupido Perché non Perché stupido Abbiamo già iniziato a giocare No per questo è un video Così a cazzo Non così che prova Abbiamo già iniziato a giocare Però dobbiamo staccare Perché dobbiamo scaricare I minecraft Qualcosa del genere Quindi ora vi vedrete Trovare un cactus Ecco Aspetta Aspetta Andiamo a vederlo Dove cavolo Qua 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 Ma che volete crea una serie Su minecraft eh si, ciao a tutti ragazzi ma si, aspetta aspetta non mi trovo, madonna più che trovare un cazzo ragazzi io sono un cubetto e mi sono nascosto per bene oh me metti cioè ma tu prova a scrivere questo prova a scrivere questo ci vuole tasa al volume del microfono oddio ma qua spulla di tutto non si capisce un cazzo ma quanto cazzo di dimostri hai messo ma che cazzo è ah 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 già nello 1.6.2 c'è più mostri ma non lo scrivi questo ci sono più mostri però senza il punto provate a scrivere questo qua però senza il punto no 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 non ne abbiamo dato i permessi di amministratore no ma ancora la game mode la game mode c'è troppo cioè ce la devo stavere perché chi chiacchierò dal server c'è troppo vabbè no no non ve lo fai a usare ok mamma mia mamma mia oh oh chiudiamo tutto chiudiamo tutto iniziamo da capo esci da minecraft esci da minecraft lascia aperto il server però esci ok esci da minecraft discone ok come scarica ti avvisi ok aspetta io mi chiamiamoci questo coso ecco aspetta io mi tolgo i pantaloni mi metto un nudo due secondi dai c'è sta amico mia moglie che dovete far video no davvero eh aspetta chiudi il server chiudi il server perchè dobbiamo modificare un po' di cose come cavolo faccio a chiudere il server semplicemente un x ah eh cioè un x a java si si questa cosa di java x e ora che devo fare e che devi fare ovviamente devi aprire i file aprile i file aggiungi solo mi è dato che io conosco i comandi mi posso farlo faccio aggiungere i file vai su sempre nella cartella dove c'è i server server minecraft ecco dynamic server fatto sono su qua apri cosa buono 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 raga ci sta pure l'amico mio adesso proprio video 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 proprio video proprio pornografia ok no aspetta seppure appure ehm no perchè non trovo più pantaloni quindi sono metà nudo ok ahahah cazzo ridi è vero ahahah 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 oh dove cazzo sono i miei pantaloni oh scusate si qua a testi nel sudelino i pantaloni c'è mio fratello che sta riscaldando i miei pantaloni ahahah un'ora aspetta oh raga raga ecco i miei pantaloni madonna ahahah ok ci sono riuscito a trovare i miei pantaloni e comunque vai nel server poi c'è scritto eh amministratore c'è un vai fammi vedere i file coglioni i file aspetta i file eccoli qua ecco vai su ops 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 aspetta raggi pensi che ho aggiunto l'amico mio in chiamata aspetta un attimo oh aspetta vediamo come si ciao raul mi piace di conoscerti io non vedo nessuno mortacci tua parla ah figo parla l'immagine vabbè vabbè ops 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 metti rector e basta rector perchè conosco comandi aspetta un attimo da chiamata aspetta un attimo da chiamata c chi cazzo c'è oh 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 ok stop il video per un attimo lo rimetto ragazzi visto che ora non c'è nessuno sono andati tutti oppa me oppa me oppa me oppa me oh eh ecco ci è arrivato è arrivato Shugoth vabbè oh eh aspetta te intanto insegnami cosa devo fare ora su questo su quel foglio scrivo il mio nome scrivo scrivo il mio nome la ho ah si vai Shugoth mi sa te si Shugoth fatto perchè un parla su questo che cazzo aspetta aspetta su questo qui pure sta pure no ho pure un'accia che si chiama Fardello P ah si l'ho visto una volta Fardello P dove cazzo si trova Fardello P Shugoth no questo no dove cazzo eccolo Fardello P non c'è un minigame bellissimo si chiama Fardello P si chiama Fardello P le scariciamo sto mine shaft quel cos'è aspetta si chiama Fardello Pro P si no ha scritto sento Fardello P fardello Pli si chiama su gioco Fardello P Fratello P problema no ah ok no perchè io le devo da un fratello problema ah ahк eh questo è bella contro il CI eh qua sottasciugo smitiamo Fardello P Mamma mia Basta pronti Mamma mia Scarichiamo mineshaft Ora questo mineshaft Come lo usiamo Te lo dico io come si usa Dobbiamo mettere nella cartella bin Cioè nel cestino Ok mettiamo nel cestino A parte quello Ci sta tutti No aspetta come si chiama Aspetta veramente mineshaft è un'altra cosa Tutto dal sito cazzo Ma come si chiama il programma Stai un attimo zitto Mortaccia mia Ok aspetta Questo cosino ecco Vabbè Ah minehaft Non mineshaft Guarda guarda dal sito Ah se da rega chiedete un attimo Benvenuti io perché aspettate un attimo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Dov'è questo mineshaft Perché io vedo niente Ok aspetta Uno si scarica Rispondo a questa chiamata Poi vi aggiungi Ok ok ci sono Aspetta dimmi come funziona questa cosa Aspetta invita l'amico tuo Io non ce l'ho a tre amici Bella Non lo posso aggiungere Perché Non lo so Che vuol dire non puoi aggiungerlo Perché io non sono in master Chiamo io Chiamo io Chiamo io Guarda Ok Aspetta allora si Allora si Chiama aspettere Chiamo io Ok ora lo posso aggiungere Ok ci siamo Ma come tu fai Come fa giù Come fa ci aggiungere genti Ok aspetta Aspetta Ok 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 Tutto Rainarava C'è un amico Ogni volta che mi vede Mi chiamo arabaico Ecco perché Leggo in arabaico Ok Iniziamo Aspetta aspetta Si scaricato Si scaricato Si l'abbiamo scaricato C'è aspetta Io l'abbiamo Aspetta Guarda è se Picio download Mi arriva Scarica java Sarica Ajarfix E si scarica Spessi ad registrare Almeno No Registrare Almeno potete avere la skin Da qui prende da skin Guardate E-mail Infinity Rudrick Da qui prende da skin Ci sono tutti i skin Che volete Pure che ne so Perché il tuo amico Non può parlare Perché sta chattando Non so io Questo No Oh Ra Eh 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 Oh Oh Su Allora Bobbi Nadali No Ciao a tutti ragazzi E si è giunto una personale chiamata Che si chiama Fardello Porten Vabbè E Ciao a tutti Ma che cazzo Ma lo chiamo fratello Lo chiamiamo fratello 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 Pericoloso Ok Fratello Pericoloso Fratello Pericoloso E Fa parte del Del Canale Di Come si chiama Per chi non sa Canali Sugar Canali Sugar Fateme Non è proprio un canale Diciamo che è una Commedia No Non è una commedia Volevo dire È un Cazzo si dice È un canale È un canale È un canale È un canale È finito Cos'è Tutti italiani No No Nessuno Cos'è No È finimeno Se muo tre bengalesi È un Filapin Un Filapin Io vado Cosa è un falcone No perché Dite Filapin Che cazzo Cazzo Ma il video sta durando 21 minuti e 55 Meno male Allora Voi dai rica 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 Scari su Muoviti No questo video lo carichi Veramente perché c'è fratello protezione No fratello Questo video lo dividi in 12 Che c'è Rector Che è fuori di testa Una cosa del genere No rica Datevi una mossa Scari Fate Deco Delà Ma quanto si rompono Quale sti cose di Meno Sul minigioco del TNT Da quello è proprio bello Quel minigioco Guarda che se facciamo esplodere il TNT Unici due che non lagheranno Sono io e lui No no guarda che Ah mi piace No per sti cazzi No davvero Non scherzo Perché 200 fps Non è che ti lag Non so Ma non ti preoccupo Non ti preoccupo Ok non mi preoccupo Ok andiamo a confermare Questo è mio Sato non è mio pc Date per la mossa Ho pure te Sato se rompete il pc Non è mio E di cosa Aspetta ma che dove muo favo Ervide la partiglio Sì ma di minecraft Sì Ok abbiamo fatto il login Ok ora andiamo su download O server list Non ho capito cosa dobbiamo fare No fate prima il login Avete fatto il login Sì l'ho fatto sì Ora su download Scaricate Mashafter launcher E old mineshafter proxy Mashafter launcher è 1.6 Old Ok Per qualcuno è complicato scaricare Per esempio Dynamic Infatti io ho fatto una cavolata Infatti Invece di mettere yahoo Invece di mettere hotmail Ho messo yahoo.com Ecco Ecco le cavolate di rudrick Vabbè Iniziamo Infiniti Rudrick 209 Ci ho c'è la hotmail Da queste piano Mi raccomando ragazzi Non inviamti le mail Che Già sono Troppi Sono già 469 Quindi Metti invia email Magari Magari un barbone Magari un barbone Ma chi c'è Sì Potassi che c'è anche una Ehi Do 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 Il massimo ti inviano quell'email Che dicono Sposami Così verrò da te Ti troverò Perché mi sono arrivati Sacco di questi messaggi Ci darò 10 milioni Se mi porti in Italia Ma col cazzo C'è Neanche un milione Magari dimmi sì Sì ma se era vero È vero ovviamente Non sono scherzato C'era davvero Poi aspettate Ommai che è il tuo server Sì sul mio server Però è ancora qui Ciao Cazzo È nostro server Ok Aspettate un attimo Mamma mia Scusa Ragazzi Ti ti vede tu Ti ti vede tu Ma che piangi te Devo piangire io Ma che piangi te Mamma mia Oh Fammi la condivisione Robi Scusa Scusa Mamma mia Scusa Voglio la mamma Ok ragazzi Fermiamo un attimo Che qua Devo essere un po' di Mi fa la ga No perché No il tuo server ha fatto La cani Vado 19 Yes Che vuoi Stiamo laggando come cani Ecco No raga l'ho schiuso L'ho chiuso Se è crashato il server Se è crashato il server No 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 raga Faccio un altro minigame Questo lagga troppo Eh no ma sei coglione Vabbè Ciao a tutti ragazzi Alla prossima Spero che Vi abbiamo fatto divertire con me Shugot Rector E il nostro Nuovo amico Che si chiama Aspetta Fammi vedere Fratello 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 Craster O Io non ci posso restare per sempre Quindi dovete fare una cosa che vale 10 minuti Fine Vabbè Io me ne devo andare Quindi ciao a tutti ragazzi Alla prossima E niente Alla prossima Basta Fine Fine La taglio qui E quindi Ciao a tutti Trovete in descrizione Il canale di Shugot Io devo andare via Oh io devo andare via Per forza Sennò mio papà mi spiega Ok ciao a tutti Fine Vediamo qua il video Mamma mia Vediamo qua Guardate Ora qua Tilco stop Pucked